Anziani che lavorano la terra, un'immagine a cui si è ancora abituati in Molise, ma le cose cambiano se i protagonisti del lavoro nei campi diventano i residenti di una casa di riposo. Alle tante attività organizzate all'interno delle strutture geriatriche, che cercano di migliorare il benessere e la qualità della vita degli ospiti, se ne aggiungono di nuove e anche il Molise sta cercando di emanciparsi, di accrescere l'offerta dei servizi rivolta agli anziani e alle loro famiglie, che scelgono di trascorrere il tempo presso le strutture a loro destinate. E' questo il caso della Don Carlo Pistilli di Campobasso, la prima casa di cura della regione, a ideare un progetto che, per la prima volta detto il presidente Angelo Cristofaro, farà uscire fuori gli anziani dalla routine quotidiana per svolgere concretamente un'attività, lavorare la terra. Social Orto, questo è il nome del progetto, nato dalla collaborazione tra il Circolo Lega Ambiente di Campobasso, il Comune del Capoluogo, la Casa di Riposo di Via delle Frasche e la Facoltà di Agraria dell'Università del Molise. E' un progetto, io come presidente del CDA sono veramente felice, entusiasta di presentare al territorio regionale questa bellissima iniziativa dell'orto sociale. E' un'iniziativa che ha come, diciamo, protagonisti gli anziani, che i quali praticamente hanno, nel momento in cui si svegliano la mattina, danno un senso alla propria giornata. E quindi impegnandosi nella realizzazione di questo orto, nel momento in cui realizzeranno poi i prodotti, di mangiarli e quindi di dare la possibilità anche agli altri colleghi della Casa di Riposo di gustare e degustare questi prodotti della terra biologica. Gli anziani non saranno soli in questa iniziativa, che ha un altro scopo importante, favorire anche lo scambio fra generazioni. C'è anche l'opportunità, insieme ai servizi sociali del Ministero di Grazie e Giustizia, di mettere in rete anche dei ragazzi che hanno avuto degli incidenti di percorso durante il proprio vissuto e di integrarli in percorsi educativi, riabilitativi e quindi diamo un senso importante sociale alla rieducazione di questi giovani. Penso che nel giro di una settimana inizieremo i lavori. Nonni e nipoti, dunque, al lavoro in un progetto di educazione sociale ed emotiva, che si spera, hanno detto dalla Casa di Cura, possa essere steso ad altre strutture di accoglienza della Regione. C'è molto lavoro da fare e, ha precisato il Presidente Cristofaro, il contributo dei volontari sarebbe davvero importante.